In vista del referendum di ottobre si mobilitano i due fronti, quello a favore delle riforme e quello contrario, le ragioni del sì e del no che oggi i radicali hanno messo a confronto. Sentiamo Francesca Lagorio. È un confronto serrato tra le ragioni del sì e del no al referendum organizzato al Senato a Roma dai radicali. L'incrocio, pericoloso referendum costituzionale e legge elettorale a discutere costituzionalisti dei comitati promotori e politici dei fronti contrapposti. Il pericolo più grande, secondo voi, di questa riforma costituzionale? Svuota le istituzioni democratiche dal di dentro, quindi i poteri di garanzia vengono indeboliti, la centralità del Parlamento viene cancellata e sostituita dalla centralità dell'esecutivo e il popolo conta sempre meno.